...prestigioso, come molto più forte, di molto grande delle preoccupazioni. Con la vita a voi vi daremo e forterete alla diffusione della nostra scuola. Esprimiamo, convivo con gli animali, il nostro plazzo per la performance dell'orchestra della scuola, che ha espresso competenza tecnica e sensibilità, maturità musicale, sensibilità e serica. Il percorso per l'ordine didattico, oltre a mettere dai professori del corso all'indirizzo musicale, che è caratterizzato dal direttore pedagosico, valenza formativa, ricerca di informazione originale, di test e medie azioni. Tante motivazioni ci inducono a conferire la persona media a montini di campo basso. Il primo grande assuntore per l'indirizzo musicale è l'attivazione della medaglia della presidenza della Carta Federica. Previgioso ritorcimento all'insegno dell'intera comunità e comunità in Dante, testimoniato a suo forzo europeo, uscita dalla certezza dei cittori, con lo bravissimo successo di oggi. Bravissimo! 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 Grazie a tutti.